Sofì cerca di mantenere casa pulita, mentre Céline invece la sporca tutta e si diverte con la pasta per terra. Io giuro che ci provo ad avere una casa sempre bella, pulita, ordinata, Céline un po' meno, un po' meno. Céline mette in disordine casa, però dopo la pulisce anche e prende la scopa e la rimette tutta a posto.